C'è l'orologio però se vuoi io ti faccio un segno Inizio puntuale perché manco 3-4 minuti Inizio Si può aspettare ancora No 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 Ciao a tutti Mi chiamo Gabriele Mariotti E' più facile sviluppare che stare quassù Quello di cui parlo sono alcuni aspetti Del design di Android e delle linee guida Quando iniziamo a sviluppare spesso La prima domanda che ci facciamo è Se dobbiamo seguire le linee guida Se è indispensabile seguirle per fare un'applicazione di successo Spesso e volentieri abbiamo sopra di noi Un responsabile sviluppo, responsabile design Un cliente che ci chiede delle cose che non seguono le linee guida La nostra tentazione e la nostra domanda è sempre quella Di chiederci se è opportuno o meno seguirle del tutto Seguirle appena oppure lasciar perdere e lavorare di fantasia Quello che noi sempre ci diciamo è che l'utente non le conoscono E quindi il nostro alibi è inutile che le segua Perché comunque è qualcosa che l'utente non sa nemmeno cosa sia Lo scorso agosto, questa è un'applicazione che adesso è diventata anche famosa Perché è stata acquisita da Google il mese scorso E' uscita questa applicazione Timely di Beatspin Questa applicazione ha riscosso un incredibile successo Ci sono stati molti post di esperti di design Ma anche è stata pubblicata sull'Android Design Action di Google E tutti hanno sottolineato il fatto che seguiva perfettamente le linee guida E nonostante questo era un'applicazione bellissima Perché spesso si dice che l'applicazione che segue le linee guida È un'applicazione monotona, uguale alle altre Che non ha nessun aspetto diciamo di fantasia Negli stessi giorni è uscita un'altra applicazione che ha fatto molto parlare Ed è quella del tempo di Yahoo Questa applicazione è stata dagli stessi esperti Che hanno sottolineato la bellezza dell'altra Sottolineata come questa applicazione ha diversi aspetti Che non vanno a seguire le linee guida Si vede l'action bar, dal navigation drawer Che non è quello standard e via dicendo Eppure se noi andiamo a guardare i dati che stanno sul Google Play Questi sono dati di dicembre dello scorso anno Entrambe le applicazioni hanno avuto un altissimo numero di download Rapportati anche all'asso temporale in cui sono state fatte Queste hanno fatto 5 milioni di download in circa 4-5 mesi Quindi è un numero molto alto E la valutazione che hanno è più o meno identica in termini percentuali Quindi una valutazione di 4,5 o 4,4 Che anche questa su un numero alto di download E un numero alto di recensioni è abbastanza invidiabile Quello che ci viene La prima domanda è Ok, due applicazioni, una seguo, una no Entrambe hanno dei download enormi E entrambi hanno un successo enorme La prima però domanda che ci facciamo E forse è una prima risposta è questa Che cosa succedeva Se giriamo L'ordine dei fattori Quindi facciamo fare agli out timely E facciamo fare a Bspin il meteo Questa è una prima considerazione molto importante È importante chi siete Se il vostro bacino d'utenza è già alto di suo Potete permettervi dei gradi di libertà superiore Rispetto a chi non è nessuno Probabilmente timely fatta da io Avrebbe avuto un numero di download superiore A quello che avrebbe avuto oggi Probabilmente il meteo di Bspin Sarebbe stato una delle tante applicazioni del meteo Quindi tenetelo presente Nel senso che se il vostro bacino d'utenza non è ampio Non siete nessuno O la vostra applicazione non è esclusiva Per esclusiva intendo per esempio un home banking È per forza esclusivo Non ci sarà nessun altro che fa il vostro home banking In questo caso probabilmente Si spera In questo caso probabilmente Seguire linee guida ci aiuta Questa frase è stata riportata da uno dei capi progetto di Android Sul punto di vista del design E esprime molto bene questo secondo concetto di cui sto per parlare Allora le linee guida non sono delle regole Sono delle convenzioni Queste convenzioni Fanno sì che l'utente Che va a utilizzare un'applicazione La sappia già usare Questo è un elemento fondamentale L'utente apre l'applicazione Si ritrova in quei tipi di componenti Che vede nelle altre applicazioni E la sa usare Senza che bisogna che qualcuno gliela spiega Questa cosa è indispensabile Perché Noi ci troviamo di fronte Da una parte le linee guida d'Android Che ci danno dei suggerimenti Su come fare un'applicazione bellissima Fate l'applicazione che funziona su più layout Utilizzate tutti gli screen possibili L'applicazione deve rotare Deve essere consistente con la piattaforma Tutte cose vere Dall'altra parte c'è Chi sviluppa Noi O chi sviluppa per noi Che È convinto Di fare un'applicazione bella Sa che dovrebbe seguire Le linee guida Ma è tentato di non farlo Perché? Perché può customizzare Su Android possiamo customizzare tutto I comportamenti Possiamo personalizzare anche Le view Quindi tutto quello che L'utente andrà a utilizzare Può essere customizzato Questo È il bene e il male di Android Nel nostro scenario però c'è una terza persona Che è fondamentale Nella nostra catena L'utente L'utente Vuole una bella applicazione Ma vuole un'applicazione Android L'utente che usa un telefono Android Non ha anche un iPhone Difficilmente ha anche un iPhone Forse l'ha avuto Quindi non conosce Diciamo Conosce quelli che sono Dei comportamenti standard Delle applicazioni che vede tutti i giorni Apre Gmail Apre Hangout Apre Facebook Google Plus Conosce quel tipo di comportamento Conosce che il menu sta a sinistra Certe cose sono ormai Native per lui L'utente non sa nulla di linea guida Però non vuole imparare le cose Non ha voglia di studiare Lui vuole semplicemente aprire l'applicazione e usarla Questa è una certezza Il fatto che lui Non voglia imparare Ha un aspetto importante Che è questo Dei tre Chi vince è lui Se questa persona qua Apre la vostra applicazione Non la sa usare La disinstalla E voi l'avete perso per sempre E' quasi impossibile Che una persona che disinstalla la vostra applicazione Andrà a reinstallare in futuro E' un evento abbastanza raro Tenete presente che L'utente è quello che finanzia Quindi se fate applicazioni a pagamento O un in-app E' lui che va a pagare la vostra applicazione Quindi Potete inventarvi tutto Ma quello che dovete riuscire a fare E' qualcosa che sia Bello E facile da usare Questo è il secondo messaggio molto importante Perché Se non è Se non è bella La vostra applicazione è come tante altre Ma può essere la più bella del mondo Ma l'utente non la sa usare E' inutile Perché l'utente l'ha già disinstallata Seguire le linee guida In questo caso aiuta Perché? Perché l'utente Ha già di fronte a sé Un'applicazione di cui La maggior parte dei funzionamenti Già lo conosce Tutto questo Cosa significa nella pratica? Un suggerimento Chiaramente esisteranno delle eccezioni Seguite le linee guida il più possibile Perché è anche più facile sviluppare Seguendo le linee guida Siate dei creativi Perché Ci devono essere elementi di univocità Nella vostra applicazione Che la caratterizza rispetto ad altre Però non spendete tempo Per inventare cose già esistenti Spesso perdiamo del tempo Per fare cose che già esistono Qualcun altro ha fatto per noi Dovete essere svegli Perché Quando parliamo di Interfacce grafiche E' un mondo che evolve molto velocemente La vostra applicazione Fatta un anno fa Oggi è vecchia Questa cosa Se la vedete come Io che faccio un'applicazione La metto su Google Play E sono costretto a rifare un refactor Potrebbe essere vista come una perdita di tempo Se fate però applicazioni business Quindi lato customer B2B Questa è un'opportunità Perché far percepire al cliente Il fatto che la vostra applicazione Va riadeguata A quello che è un contesto Che è cambiato in un anno È un'opportunità di business Non indifferente Se ve la paga anche meglio Siate consistenti con la piattaforma Cioè fate applicazioni Che siano più possibili Attinenti Alla piattaforma Quindi simili alle altre Come comportamenti Non come Componenti visivi L'ultimo aspetto Importantissimo Ascoltate il feedback Degli utenti L'utente Che va a fare una review Del vostro applicazione Ci sono quelli Che danno una stella Senza motivazione Ci sono quelli Che danno una stella Perché vogliono essere in testa Ai commenti Però ci sono anche quelli Che danno delle indicazioni Ascoltateli Perché come detto prima L'utente è quello che poi In un'applicazione Su Google Play Va a finanziarvi Tutto questo Nella pratica Vi faccio due esempi Semplici Per darvi però Un'indicazione Di cosa significa Seguire le linee guida E contemporaneamente Essere creativi E reattivi L'action bar La conosciamo tutti Ma l'action bar Fino al 2011 Non c'era Qualcuno prima di Google L'ha fatta C'ha avuto il coraggio Di fare qualcosa di diverso Oggi Chiaramente Fare un'applicazione Senza action bar È follia È follia perché Tutte le applicazioni Ce l'hanno È una cosa che l'utente Ha imparato a conoscere E soprattutto È abbastanza semplice Da implementare Questo però Non significa Che dobbiamo fare Tutte le applicazioni Olo Con l'action bar grigia O l'action bar dark Questa è una cosa Che fino ad un anno fa Era Una possibilità Oggi è un must Non possiamo pensare Di fare un'applicazione E non andare A brandizzare L'action bar Colore Logo Deve essere chiare Univoci Da nostra applicazione Qualcosa che li va A contraddistinguere Quindi non usate Componenti Finti Andate a customizzarlo Questo è Il generatore Sicuramente più conosciuto Vi permette di generare Tutte le risorse Per andare a colorare E customizzare I componenti Dell'action bar Dopodiché Però Dobbiamo essere attenti A quello che succede Nel contesto In cui lavoriamo L'action bar Sta evolvendo Se fino all'anno fa Era scontato Andarla a colorare Oggi è Sicuramente Come detto prima Indispensabile Però Attenzione Dobbiamo spendere tempo Per capire Cosa succede All'applicazione Intorno a noi Questo richiede tempo Cioè significa Andare a scaricare Applicazioni Vedere Osservare E leggere L'action bar Evolve L'esempio Questo Ce l'avete tutti di fronte Agli occhi È quello di Google Play Music Quindi questa action bar Che scrollando Va a diventare trasparente E va a aumentare Ma c'è un altro esempio L'ha fatto sempre Google Quello in Italia Si chiama Google Play Edicola L'action bar Scrollando Diventa più grande E il logo si sposta E diventa più grande In centro Sono esempi Fatti Da Google Ecco Questa è una cosa importante Se non l'avessi fatto Google probabilmente Oggi l'avremmo criticato Avremmo detto Eh questa è una cosa che Perché mai L'abbiamo fatta così Però invece La mia impressione La mia idea È che C'è una linea guida Che dice Usate l'action bar Non ci si chiude nessuna parte Che l'action bar Possa fare dei comportamenti Come questi Siete reattivi Nel senso che Se la vostra applicazione Può utilizzare Queste logiche Perché no Si sono già fatte Ci sono delle librerie Che permettono di farlo Siete reattivi In questo senso Quindi Se la vostra applicazione Permette una cosa Di questo tipo Utilizzatele Oggi ci sono tanti altri esempi L'action bar trasparente Oppure Uscita con la 4.4 La possibilità di fare L'immersive mode L'action bar che si Nasconde E poi con il tap Ricompare Abbiamo anche La possibilità Di rendere trasparente La status bar E la navigation bar Attenzione Questa cosa La comincio a vedere spesso Però non significa Che tutte le applicazioni Possano O siano adeguate A un comportamento Di questo tipo In cui l'action bar Sia trasparente O addirittura L'action bar Abbia lo stesso colore Della status navigation Nella navigation bar Questa è un'altra libreria Chiaramente funziona Solo sulla 4.4 Tenetele in considerazione Permette di andare a colorare La cosa Però Come ho detto prima Non tutte le applicazioni Possono avere questa creatività Tenete presente il contesto In cui la vostra applicazione Sono degli esempi Che significa L'action bar esiste Non usarla È oggi Secondo me Una cosa Strana Però State anche attenti A notare Quello che succede Intorno a voi Ci sono esempi Di action bar Diverse Sono degli standard Che cambiano velocemente Siete reattivi Nell'usarlo Soprattutto Quando una cosa Diventa Uno standard Bisogna che vi adeguate Esistono le eccezioni Volutamente Ho fatto un'eccezione Di Google Google Translator C'è l'action bar Che Non è standard C'è un motivo Quindi L'eccezione È Possibilmente Non andate a reinventare La ruota E se dovete fare Qualcosa di diverso Fatelo perché C'è una reale necessità Non perché C'è un gusto Di essere diversi Spendete un sacco di tempo E il cui beneficio È abbastanza dubbio Velocemente Il navigation Drover È identico all'altro Non c'era Prima che fosse stato Standardizzato da Google Però C'erano tantissime applicazioni Che già prima del 2013 Utilizzavano Quella che era chiamata Facebook navigation Slide navigation Flying up menu Slide in menu C'era una libreria Slide in menu Che era utilizzatissima È un comportamento Che prima Chiaramente Qualcuno ha avuto Il coraggio di fare Google ha standardizzato Oggi Andare a utilizzare Una libreria di terze parti Per andare a fare Il navigation drover Non ha nessun beneficio Come l'action bar Esiste un comportamento Ben delineato L'utente L'ha imparato C'è un'icona Che è ben definita Che identifica La presenza Dell'action bar C'è un movimento Una gesture Che è chiarissima Andare a implementare Qualcosa Di diverso Significa mettere L'utente Di fronte a qualcosa Che non sa usare Immediatamente Un rischio per voi Il cui beneficio Secondo me Non c'è Non significa Che tutte le applicazioni Devano usare Il navigation drover Se non avete Una navigazione Multilivello Non è indispensabile Ma se c'è Usate Il componente standard Possibilmente Customizzatelo Oggi Non esistono Tantissime Implementazioni Del navigation drover Diverso Dalla list view Quindi Un elenco di voci Sono abbastanza convinto Che In futuro Ci saranno La mia idea È che Laddove c'è Delle animazioni Sottili Laddove c'è Colore È un navigation drover Che colpisce Ed è bello da vedere Abbinata a questo La funzionalità Questo è quello Che ho detto Non andate ad utilizzare Un comportamento Diciamo È inutile Andare ad utilizzare Una libreria Al posto di Quella ufficiale Il beneficio Non c'è Esistono anche qui Chiaramente le eccezioni Anche qui Volutamente Vi ho messo Quella di google Questo è google map C'è un navigation drover Che sta Viene richiamato Da un icono in basso Il cui navigation drover Come contenuto È abbastanza Diciamo Fuori standard google Però Anche qui Se non l'avesse fatto google Saremmo tutti a dire Che non andava bene Lo fa google Va bene Google potrebbe cambiare Questo però Metteteci colore Nelle vostre applicazioni Il navigation drover È uno degli elementi Che secondo me Si presta molto A essere personalizzato Usate Più possibile Chiaramente qualcosa Che richiava il brand Della vostra applicazione L'ultimo aspetto Su cui Voglio un attimino parlare È il fatto che Andare a fare Un'applicazione Che segue Le linee guida Non significa Non dover Inventarsi nulla Fate qualcosa Che per l'utente Sia facile da usare Però Allo stesso tempo Non abbiate paura Di fare Dei comportamenti Diversi Da quello che sono Le altre applicazioni Vi faccio un esempio Il pull to refresh Oggi lo conoscono tutti C'era Fino a poco tempo fa In molte applicazioni Questa cosa Non sta scritta Nessuna parte Non c'è nemmeno Una libreria Ufficiale Per poterlo fare Eppure È un pattern Che l'utente Ha imparato a fare Lo slide down Fa il refresh Dall'applicazione Senza cliccare Sul pulsante refresh È una qualcosa Che ormai l'utente Conosce Oggi Tutte le applicazioni Di Google Hanno un comportamento Simile Anche se Leggermente diverso Non va più a scrollare Sotto l'action bar C'è l'action bar Che si anima Con decolorazioni diverse In base alle applicazioni Eppure Oggi Non c'è Una libreria ufficiale Di Google Che permette di fare questo Esiste una libreria Di terze parti Come sto sotto È un dipendente Google Tra l'altro Però Questo non significa Che sia ufficiale Però Il messaggio qual è? Siate svegli Nel senso che Questo tipo di pattern Oggi Anche se non è scritto In nessuna parte L'utente L'ha imparato a usare Su una vostra applicazione L'utente Proverà a fare Quel movimento È quasi sicuro Se c'è una lista Anziché mettere Un pulsante Aggiornare L'utente cercherà Di aggiornare Scrollando verso il basso Significa quello che dicevo prima Seate attenti E siate svegli Perché Un'applicazione Scritta un anno fa Probabilmente richiede Un attimino di attenzione Basta poco E la vostra applicazione È perfettamente in linea Con quello che è Lo standard Di oggi Altre gestualità Che oggi Abbiamo imparato a usare Google Chrome Su Android Flipboard Che c'è uno swipe Verso l'alto Questo è un suggerimento Quando andate a utilizzare Delle gestualità nuove Che quindi l'utente Difficilmente conosce La prima volta Spiegateli Perché se no Lui non le scopre Questi sono Chiudo con due esempi Sono due componenti Che si vedono Sempre più spesso Uno swipe Verticale Con la paginazione Esiste una libreria Non ho fatto in tempo Aggiornarlo Che lo fa Però non è Dello stesso autore Dell'app Esiste un'altra gestualità Che vedo comparire Sempre più spesso Questo è un esempio Lo chiamano Swipe app Swipe back Quando andate Ad aprire Quello che dovrebbe essere Navigation driver In realtà In questo caso non c'è Appare una bitmap Dell'attivity Della view precedente È una cosa Che si comincia A diffondere Il messaggio è quello sopra Quando parliamo Di design Dobbiamo per forza Impiegare tempo Per studiare Quello che c'è in giro Per capire Come le tendenze Inventiamoci delle cose Ma siamo reattivi Spesso Le modifiche Sono virali Che significa Qualcosa che Improvvisamente Tutti cominciano A utilizzare Siete svegli Nel senso che Se avete un caso Come questo Che c'è una notifica L'utente è quel tipo Di numerino Che sta sopra Un qualcosa Lo identifica subito Con un numero di notifiche Altra cosa Volutamente forzata L'icona Dell'overflow Scritto sulla pietra Non lo modificate Perché non c'è Nessun senso Eppure Google Now Il Dash Clock Un'applicazione Che probabilmente conoscete L'ha fatta Roman Nurik Che è uno dei Massimi esponenti Dentro Google Del design L'ultimo è Twitter Hanno cambiato L'overflow L'icona è diventata Con i tre pulsantini Anziché squadrati Tondi Che significa Significa che Dovete anche qui Stare attenti A cosa succede Il giorno che diventa Uno standard La vostra applicazione Va cambiata Perché poi Improvvisamente La vostra applicazione Diventa vecchia Chiudo qui Abbiamo detto Se seguite le linee guida Secondo me è più facile Fare un'applicazione Che è di successo Soprattutto se non conoscete Se non avete un bacino D'utenza Ben definito Rompetele Quando è necessario Non solo per il gusto Di farlo Questo sia come Successo finale Ma anche come Tempo impiegato Per farlo Però Non fermatevi A fare delle applicazioni Che siano Monotone Seguire le linee guida Non significa Prendere l'action bar grigia Fine Tre cose però Fondamentali L'utente L'utente Vuole un'applicazione Che sa usare Quindi un'applicazione Android Che ha dei comportamenti Abbastanza standard Per cui lui Non deve imparare Il comportamento Costumizzate Quello che volete Ma non fate Degli anti pattern Ce ne sono tanti Mi verrebbe da dire Lo splash screen Bellissimo Ma non fa parte Del mondo Android Questo lo chiede Soprattutto i clienti Che fa B2B Spesso si trova Un cliente Che dice Ma io voglio vedere Subito il mio logo Perché io pago E io voglio che si veda Perfetto Tenete presente È vero Fateglilo Però prima di farlo Ricordate Che l'utente Sta lì aspettando Il suo logo E probabilmente Se la sua applicazione Non è esclusiva Non lo userà mai più Solo perché ha aspettato 5 secondi Ogni volta che la apre L'ultima cosa È importantissimo Quando fate cose nuove Quindi qualcosa Che l'utente deve scoprire Testatele sul campo Non le testate voi stessi Voi siete sviluppatori L'utente ragiona Con metodologie Leggermente diverse Dato a un amico Non sviluppatore A una moglie A un padre A una madre A un bambino piccolo Il bambino piccolo È un esempio Che uso spesso La do ai miei figli Il bambino Di 5 anni Non conosce nulla Delle linee guida Però è nativo Su questi tipi Di dispositivi Lui lo apre E capite subito Se lui riesce A fare qualcosa È il miglior test Per vedere Se avete scritto qualcosa Che sia utilizzabile Siate svegli L'ultimissima cosa Le linee guida cambiano Con loro Deve cambiare La vostra applicazione L'applicazione di 2 anni fa Se voi non l'avete toccata Oggi è probabilmente Fuori mercato E con lo scarso appeal Qui trovate i miei riferimenti Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti